Musica Soluzione Acqua, azienda leader nazionale nel settore trattamento purificazione acqua, per scopi promozionali, ha deciso di regalare il purificatore per tutti quelli che chiameranno adesso. Quindi cosa aspetti? Chiama subito! Per la ventiquattresima giornata del campionato di promozione Gironedì, il cattolico ospital Calbi Il Gatteo Le due squadre sono divise in classifica da ben 34 punti, con i giallorossi di casa al comando a quota 49 e gli ospiti penultimi a quota 15. Queste le formazioni in campo agli ordini del signore Tommaso Finchi di Ferrara. Per la cattolica calcio, Andreani, Casolla Parma, Pasini, Tombari, Mazzoli, Mani, Mercuri, Pasolini, Brighi ed Alessandro. A disposizione del tecnico Giorgi, Venghi, Politi, Silvestri, Generali, Ceramicoli, Raimondi e Coli. Il Gatteo risponde con Isa, Baffoni, Tosi, Bertozzi, Aliaiei, Gobbi, Comuniello, Bacci, Ugolini, Senia, Marconi. A disposizione del tecnico Pessina, Arena, Ricci, Giunchi, Pugliese, Veneruso, Salaroli e Golinucci. La partita, al terzo lancio dalle retrovie, D'Alessandro e Pasolini duettano. Poi Pasolini entra in area e cerca Brighi. Isa è attento e blocca. Al quinto Brighi allarga a destra per Casolla, il cui traversone trova Isa attento. Al sesto, Aliaiei in avanti per Ugolini. Brighi tocca, ancora il numero 5 del Gatteo che carica il sinistro. Andreani respinge, Comuniello fallisce il tapin di testa. Al tredicesimo, Brighi scappa via destra. Assist per Pasolini, che calcia. Isa ribatte, poi dice no anche a Mercuri. Al sedicesimo, botta di Pasolini da calcio piazzato. Isa alza oltre la traversa con la punta delle dita. Sui sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, Pasini tenta la rovesciata, azione vanificata dalla sua posizione giudicata irregolare. Al trentaseiesimo, Ugolini recupera palla al limite dell'area e batte di destro, sfera di poco oltre la traversa. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. La ripresa si apre con un bel dialogo al quarto tra Casolla e Brighi. La retroguardia ospite si salva in angolo. Al quinto, Casolla fa filtrare per Pasini, sul cui cross si coordina Mani, pallone oltre la traversa. All'undicesimo, combinazione Parma, Mani, Pasolini, ancora Parma. Isa ribatte, Mercuri mette in rete, ma l'arbitro annulla per un presunto fuorigioco di Parma. Al tredicesimo, Baffoni trattiene Parma e rimedi il secondo giallo, lasciando il gatteo in dieci. Al quattordicesimo, Pasolini non riesce a capitalizzare l'invito da calcio da fermo di Casolla. Al sedicesimo, Parma si porta avanti il pallone e va la battuta, il suo fendente si bilalato. Al diciannovesimo, Brighi anticipa Isa, che lo stende. Rigore è giallo per proteste per il portiere ospite. Sul dischetto si presenta Casolla, che spiazza Isa, cattolica in vantaggio. Al trentunesimo, Finchi di Ferrara indica ancora il dischetto, per questo contatto in area trattose da Alessandro. Dagli undici metri questa volta va Pasolini, che trasforma, nonostante Isa, si tuffi dalla parte giusta, 2-0. Al trentatresimo, Casolla per Mani, il cui traversone basso è preda dell'estremo ospite. Vince il Cattolica 2-0, i ragazzi di Mirko Giorgi salgono a quota 52 in classifica.